Tu, Drake! Marlo! Non ci arrivo! Forza, ragazzo, ti tiro su io! Nathan! Drake! Drake, sei degno del nome che porti? Meritalo, come Francis lo meritò con Elisabetta. Dimostra la tua grandezza! Non ho nulla da dimostrare. Presto, dammi la mano! Non puoi lasciarla morire! Cazzo se può! Lei, dammi la stramaledetta mano! Vieni! Che diavolo stai facendo? Io non... non riesco. Si mette male! Vieni fuori da lì! Resisti! No! Ehi! No! Forza! Ecco fatto! Corri! Quassù! Brigati! Sali, dobbiamo andarcene! Qui crolla tutto! Tre stramaledette pallottole! Dov'è in patta scenderà le tue volte con tre pallottole? Guardi! Amazzo! Scappa! Andiamo! Siamo sul mondo lì, la gigante! Corri! Vai, vai! Dobbiamo salire più su! Siamo quasi fuori! Corri! Siamo quasi! Corri! Dobbiamo! Ci sono di qua! Dì! Ah! 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 Sì. 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 Grazie. Dimparamai a un'esparatoria con un coltello. Dolly! Resisti! È ora di farla finita. Grazie. Dai! Passu! Corri, sali! È inutile! Non ce la faremo mai! Salim! Presto! Montate! Più peroglia! Passa! Passa! Mio Dio. Io non l'ho è. Addio alle ricchezze incommensurabili, eh? Non è granché, non credi? È abbastanza. Già. Già. Aspetta un secondo, Nate. Tutto bene? Sì. Sì, c'è solo una cosa che devo dirti, tutto qui. D'accordo. Che c'è? Vedi, io ho avuto un padre schifoso, un'infanzia schifosa. A 40 anni ho pensato che non avrei mai avuto figli. Diavolo, non ne ho mai voluti. Cosa ne sapevo di come si cresce un figlio? E poi tu sei piombato nella mia vita. Senti, davvero non devi... No, ascolta. Invece devo. Io ho fatto molti sbagli, ragazzo. Un sacco. Non sono certo un uomo perfetto. Mi stai chiedendo di sposarti, Sally? Intendo, ti voglio bene. Ehi, basta. Per un secondo, smettila di fare il cazzone, ok? Da quanto tempo ce l'hai tu? Da troppo. Credevo di averlo perso. Il fatto è questo. Non ci è dato scegliere da dove iniziare in questa beta. La vera grandezza sta in come ti giochi le carte che hai. Ehi. Ehi. Te ne stai andando? Forse. Mi spiace tanto per il tuo anello. Già. Non importa. Ho scambiato con qualcosa di meglio. Andiamocene da qui, ok? Sì. Sì. Forza. Da questa parte. Beh... Avanti. Fidati. Che cosa hai in mente? Non ci credo. Eh? Non è proprio come quello che hai sfasciato quattro anni fa, ma... può andare. Forza. Vediamo se mi ricordo come si vola con quell'affare. I paracadute ci sono, vero? Sì, certo. Tre? Più o meno. Il primo giro è, ogni ora... immaginata, il meno si tro展no. Cercai. "... Grazie a tutti.